Comandante Farina si ritrova oggi davanti a quasi 200 studenti del Malignani per festeggiare 10 anni di attività didattica nella scuola. Che sensazione l'ha fatto intanto incontrare ragazza? Di sicuro è stato un incontro emozionante, emozionante proprio perché per noi è una grandissima occasione incontrare i ragazzi, incontrare chi sogna di fare il nostro stesso lavoro o comunque sogna in generale. Quindi un messaggio che cerchiamo di passare con questi insegnamenti è non solo da un punto di vista tecnico, come cercare, come approcciare il mondo del mondo aeronatico, ma anche da un punto di vista emozionale, da un punto di vista di emozioni, di raggiungimento dei sogni, come fare. Perché noi siamo l'esempio, siamo l'esempio di come con passione, dedizione e lavoro, e con un pizzico di fortuna chi lavora in un determinato modo riesce a raggiungere i propri sogni. È stato intercettato da un sacco di ragazzi per autografi, selfie. Che consiglio gli dà? Sognate perché si può raggiungere l'obiettivo? Di sicuro un consiglio è quello di non porsi dei limiti, proprio perché bisogna pensare in grande. Solo pensando in grande riusciremo a raggiungere quello che è il nostro obiettivo.